Avendo ritrovato sensazioni importanti E' finita il Maradona, 4 gol del Napoli Oltre ogni singolo comportamento Il rispetto per la maglia è il primo comandamento Questo era il monito che le curve, che la curva A Aveva dato in questa giornata E nelle 24-48 ore più rocambolesche, più intrigate, più complicate Che si possano ricordare negli ultimi anni Viene fuori una prestazione mostruosa Che ci fa ricordare un Napoli a noi tanto caro E ci fa pensare che la tensione accumulata negli ultimi giorni Abbia generato una scossa, una scarica di adrenalina All'interno del gruppo, all'interno dell'ambiente Che ha fatto sì che questa squadra ritrovasse le vecchie certezze Il vecchio amore per il gioco Semplicemente il vecchio amore per il gioco La passione per il gioco del calcio La voglia di divertirsi su un campo di calcio E questa sera si è vista chiaramente Perché al di là di tutte le chiacchiere che si possono fare Al di là di tutti i pensieri o i retropensieri Che si possono avere E poi il campo ti dà un risultato Ti dà un riscontro che è sempre, è sempre sacro È sempre sacro Sia quando le cose vanno bene Sia quando le cose non vanno bene C'era e probabilmente c'è ancora qualcosa che non va All'interno di questo gruppo Ma la serata di oggi Ha spazzato via un po' le nubi E ha fatto capire che la voglia La compattezza, l'unione La scarica di adrenalina A questa squadra è necessaria È vitale Ma negli atteggiamenti di ogni singolo componente Di ogni singolo componente Dalla naturalezza e la tranquillità Di Ostigar e Nathan Che sono una coppia di difensori centrali Uno l'anno scorso Panchinaro Uno che giocava nel Bragantino E che oggi, gioco forza Sono costretti a giocare titolare Da titolari E stanno facendo bene Perché mostrano una buona intesa Non aggiungo altro su due simboli Come Di Lorenzo Come Mario Rui E anche come le certezze che in fondo ti dà Meret Perché che che se ne dica E viene disdegnato spesso e volentieri Il suo lo fa E ha anche la fortuna di avere una squadra Che fa sì che lui venga impegnato poco La lucidità e la sacralità del gioco di Lodbocka Un ritrovato Finalmente Frank Zambo Anghissà Che pian piano sta tornando ai suoi livelli E che che ne dicano i Santoni Che è un giocatore mediocre E che soltanto con spalletti Ha reso oltre le sue capacità Vediamo Attendiamo Aspettiamo Un Zelensky Sempre 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 Nel vivo nel gioco Per fortuna Perché la continuità E il problema di questo giocatore Se l'acquisisce E soprattutto Se tira fuori la personalità Perché andarsi a prendere quel pallone Sul rigore Che sblocca la partita Vuol dire avere personalità Vuol dire avere le palle E la caparbietà La voglia Di Kviciak Varadzkelia Anche contro la sfortuna Perché nel periodo In cui tutti gli ricordano Che non segnava Da non si sa quanto Lui che cosa fa? Offre una prestazione mostruosa Si guadagna il rigore Prende un palo Non contento Ne prende un altro Ma poi La scossa L'adrenalina La scarica Fa sì che lui Si vada a prendere Quella gioia Del gol Dimenticato Con un'azione Kviciak Varadzkelia Che si va a recuperare Il pallone Sul disimpegno Sbagliato dell'Udinese Salta con uno scavetto Silvestri E appoggia in rete Per un'esultanza Che è Tutta un programma Tutta la voglia Che aveva di Zittire un pochettino Tutte quelle Che sono le chiacchiere Che si sentivano Negli ultimi giorni Settimane e mesi E abbracciare Il suo pubblico Che non lo ha Mai 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 Abbandonato E poi La gran forma Di Matteopolitano Che probabilmente È il giocatore Che oggi Nel Napoli Sta meglio In assoluto Anche se ancora Non determina Le partite Come potrebbe E dovrebbe Ma sta bene E si vede E Victor Rosimane Il TikTok Del Napoli Probabilmente Avrebbe dato fastidio A chiunque Però Tirare in ballo Quell'errore Probabilmente Perché è un errore Per Minacciare Azioni legali Cancellazioni di foto Ha un po' Dato fastidio A tutti E ha lasciato Adito a chiacchiere Di ogni tipo Poi nella settimana In cui aveva sbagliato Il calcio di rigore Aveva polemizzato Con Garcià Apreti cielo Però stasera Ci sono state due cose Intorno a Victor Rosimane Che vanno sottolineate Una Il pubblico Il pubblico Sta dalla parte di Victor Come è anche giusto Che sia Perché Il pubblico Non deve sentirsi Toccato Da un'azione Che probabilmente Viene fatta Dai suoi agenti Sul suo profilo Instagram Di cancellare le foto Ma si deve attaccare A quello che Questo calciatore Ha rappresentato Negli ultimi anni A quello che Ci ha regalato E a quello che Ancora fa Per questa squadra Perché stasera Qualcuno dirà Eh non ha esultato Si vede che è nervoso Ci sta Ci sta Che sia nervoso Ci sta Ma chi non lo sarebbe Però Come abbiamo detto All'inizio Il rispetto Della maglia Il primo comandamento E questo ragazzo Ogni singola volta Che l'ha indossata Questa maglia L'ha sempre rispettata Quindi chiudete Ocess Se avete voglia Di gettare Merda Su Victor Osiment Poi se ne andrà A gennaio A fine stagione Non lo so Ma non potrà Ma non potrà Mai nessuno Accusare Questo calciatore E questo uomo Di non aver Rispettato La maglia Azzurra Per ogni Singolo Istante In cui L'ha indossata Quindi Io E tutti Siamo dalla parte Di Victor E che nessuno Osasse metterci In bocca Cose che Nessuno Dice E far passare Messaggi Che non hanno Alcun senso logico Stasera Qualcuno Avrà voglia Di andare A vedere La classifica Perché su altri Campi Sono successe Cose Particolarmente Interessanti Ma non Fatelo Perché Oggi Non ha Alcun senso Potrebbe Essere La polvere Che abbiamo Messo sotto Al tappeto E poi Potrebbe Svanire Tutto O forse Potrebbe Essere Il Segno Che forse Finalmente Qualcosa È cambiato In un'annata Che è partita Maluccio Sotto Tanti Punti Di vista Ma la stagione È lunga La stagione È lunga E anche Anzi Soprattutto Questa sera Abbiamo Dimostrato Non voglio Parlare Di gioco Perché Questa squadra Al calcio Sa giocare Altrimenti Non ce l'avrebbe Lo scudetto Sul petto Cucito Sul petto Ma abbiamo Dimostrato Che se L'ambiente È compatto Tutto E rema Tutto Nella stessa Direzione Per toglierci Quel Cazzo Di Pezzo Di Stoffa Dalla Maglia Ne devono Ne devono Mangiare Ma ne devono Mangiare Il merda Quindi Auguriamoci Che Anuttad Sia passata E che Da adesso In poi Si veda Un gruppo Di uomini Prima che Di calciatori Che rema Nella stessa Direzione Chissà Chissà Che le tensioni Delle ultime 24-48 ore Non ci abbiano Riconsegnato Il Napoli Vincente Di cui ci siamo Tanto innamorati Amici stracandidi Per questo video È tutto Vi ringrazio Vi saluto Vi auguro Una buona nottata E noi Ci rivediamo Ovviamente Alla prossima Ciao